Il tema sul quale concentriamo questo contenuto sono gli esuberi, ben trovati cari amici, gli esuberi perché voglio approfondire un po' la questione degli esuberi, però ci sono delle premesse da fare non per quanto riguarda gli esuberi, ma per quanto concerne la situazione che in questo momento c'è la Juventus, intanto in giornata, come avrete appreso sia dal sito ufficiale della Juventus, sia anche dal sito che dirigo tutto juve.net, l'Enel è una partnership molto importante per il prossimo biennio, che può essere anche pluriennale, può essere anche di natura molto più lunga, questo sodalizio tra la Juventus e l'Enel che è molto molto importante perché vuol dire che se l'Enel investe nella Juventus le cose, il brand come si suol dire, è molto molto ancora appetito, sì molto appetito. Poi c'è la questione relativa a Chiesa che io per primo devo dire, per primo ho snocciolato, quando ho denunciato che Marotta nel ritiro della Nazionale aveva parlato con Chiesa, poi gli manda il messaggino e quindi si punta al parametro zero all'Inter, ex Inter squadra fallita. Io credo che realmente Marotta abbia avvicinato Chiesa, ma è evidente che è un'azione di disturbo che ci sta, non ci mancherebbe altro, per non fargli rinnovare il contratto, per mettere in difficoltà la Juventus. Ma Marotta gioca su un tavolo molto sporco perché lui sa benissimo che Chiesa non può tesserarlo perché se la Juventus gli dovrebbe dare 8-9 milioni di euro, lui come fa a dare a Chiesa 8-9 milioni di euro a parametro zero l'anno prossimo? Più dovrebbe pagare i soldi al procuratore, le commissioni si chiamano, quindi è vero come è vero che dietro c'è una manovra di disturbo di Marotta, ma è molto debole, si mette in difficoltà un po' la Juventus. E come io vi ho già riferito, come io già vi ho detto a più riprese, sarebbe per Chiesa un anno infernale perché i tifosi della Juventus lo metterebbero in condizione di mettersi vergogna. Anche se la posizione di Chiesa, a mio modesto parere, è una posizione rispettabile perché finiscono i cinque anni di contratto, fra l'altro si ammortizza tutta la cifra, quindi la Juventus non farebbe minus valenze, però perderebbe 25-30 milioni di costo perché oggi la valutazione è questa, visto che si trova a scadenza di contratto. Nel frattempo però abbasserebbe un altro maxi-ingaggio, quindi non guardiamo soltanto la parte negativa, però rinuncerebbe ad un bravo giocatore, un bravo giocatore in mano ad un allenatore emergente come Tiago Motta, quindi ci lasceremmo solo il dubbio, se dovesse essere venduto, cosa avrebbe potuto fare Chiesa con Tiago Motta. In caso contrario lo vedremo per un anno ancora. È evidente ed è logico che Chiesa punta a rimanere un anno nella Juventus a giocarsi le sue chance, a far crescere il costo del suo cartellino, del suo ingaggio per l'anno prossimo e io non credo che possa essere l'appannaggio dell'Inter, ma non perché io ce l'abbia con l'Inter, non perché l'ex Inter, squadra non iscrivibile, non per questo, perché realmente è una squadra che non può fare nessun movimento di mercato, una squadra che è sull'astrico, quindi come fa a pagarlo? Come fa a dare gli 8-9 milioni più le commissioni? Però c'è la manovra di disturbo, che potrebbe essere una manovra particolarmente convincente nei confronti di Chiesa che, diciamo la verità, Chiesa non si digerisce il fatto che Vlaovic prende 12 milioni, questo poi in sostanza è tutto. Si crede un giocatore superiore, si crede un giocatore che merita di più, ma ne ha anche il diritto, ci mancherebbe altro, anzi, va sostenuta questa vicenda. Però, come già vi ho detto in più circostanze, e io sono stato il primo a dire questa vicenda, dell'avvicinamento di Marotta Chiesa negli spogliatoi del ritiro della Nazionale, e poi il messaggino di cui ha riferito Sandro Sabatini, che in questo momento, con il pressing i-box, si diverte ad entrare su quei social che odiava, e prima o poi ci troverete anche Zazzaroni che parla dei social in maniera negativa, perché Zazzaroni solo sui social può andare a finire. E quindi, diciamo la verità, Marotta, come è giusto che sia, sta facendo un'azione di disturbo. È una cosa, a mio modesto parere, molto giusta, anche se lui gioca sporco perché sa di rappresentare una non squadra, una squadra non iscrivibile. Però fanno credere a tutti che è una squadra solvente. Il problema è che non è solvente, il problema è che vi stiamo dicendo quotidianamente la verità e non temiamo smentite. Vedete, nessuno può smentirci, nessuno. Matt ci va duro, Gigio ci va duro, Peter Pan non ve lo dico proprio, Marietto Rossonero alla grandissima, il bandito li massacra ai dirigenti dell'Inter e al mondo Inter e poi abbiamo anche Mirko Crippa, Robert D'Amico che stanno crescendo, stanno crescendo con la giusta tensione riguardante appunto la Juventilità, perché oggi chi è giuventino è contro la nazionale e ha sete di giustizia. Chi è giuventino? Per cui noi abbiamo sete di giustizia e noi siamo ossessionati dal fatto che in Italia ci sia una squadra non solvibile, non iscrivibile al campionato. Io sono ossessionato dalla presenza dell'Inter, lo dico perché è una squadra abusiva che non può partecipare al campionato, per cui io sono ossessionato da una presenza nefasta, una presenza illegale, una presenza illecita dell'Inter. Lo ammetto, sono ossessionato da questa presenza, perché sono dei malfattori, ma lo dicono i fatti, non lo dico io, basta andare a prendere le carte e si nota come questa squadra ha fatto solo cattive azioni, cattive situazioni e una squadra abusiva, fallita, pignorata. Quindi Marotta sa tutto questo, perché lo sa bene Marotta, perché Marotta è la foglia di fico del sistema ex inter, attuale associazione inter non iscrivibile, però dal punto di vista del mercato fa una cosa giusta, a mio modesto parere. E parto da Chiesa, che non è un esubero in questo momento, ma non potrebbe esserlo, perché comunque è sul mercato, quindi la Juventus non può svenderlo. Non è un esubero, però ci sono gli esuberi. E io vado controcorrente, vado molto controcorrente. E tutti quanti vogliono che questi esuberi vengono al più presto immessi sul mercato, perché la Juve deve fare soldi, perché la Juve deve prendere denari per poi comprare altri giocatori. Io sono uno di quelli invece che paradossalmente spero che questi esuberi non vengano ceduti. E a parte Desciglio, di cui sono un tifoso per carità, ma oggi non è più in condizione di giocare della Juventus, a parte Milik, che non è all'altezza di giocare della Juventus, ritengo che tutti gli altri invece siano giocatori all'altezza. Non considero Chiesny, che è comunque alla ricerca di sistemazione, non è manco un esubero, è già ceduto, deve solo decidere dove andare. E allora io ritengo che Rugani, McKennie, Artur e Kostic, tutti e quattro, immessi nella rosa della Juventus, reintegrati nella rosa della Juventus, fanno della Juventus la principale favorita per lo Scudetto. Perché io poi, ripeto, le mie idee possono essere discutibili, sono in controtendenza. È evidente che Giuntoli, in conferenza stampa, e non ho motivo di dubitare della bravura, della serietà del direttore, ha detto prenderemo un difensore, prenderemo un centrocampista e prenderemo un attaccante. Non ha detto se è una centravanti, un attaccante esterno, ha detto un attaccante. Quindi tre calciatori. Io ritengo che con questi tre calciatori che la Juventus prenderà, perché li prenderà, sicuro, non sappiamo i nomi, né tantomeno diciamo abbiamo notizie. Perché come potete vedere, come ci siamo accorti, anche dalla guerra tra Pedullà e questo Fabrizio Romano, sono due mercatari ambulanti, quelli che vendono sul mercato. Quelli che vendono sul mercato hanno merce reale, anche se di poca qualità. Qui loro sono ambulanti di fake. Non hanno manco, diciamo, in mano la situazione, non hanno nulla in mano. Fanno a chi la spara più grossa e chi la smentisce più grossa. Ne ho parlato nel video precedente, che comunque vi invito sempre a verificare e a vedere. Detto questo, perché io mi auguro che gli esuberi rimangano alla Juventus e che vengano reintegrati in Rosa? Perché Rugali per me rappresenta uno dei migliori centrali italiani. Perché Kostic è uno che due anni fa in Europa League è risultato il miglior giocatore, ed è un giocatore forte, utilizzato in un certo modo, non come veniva utilizzato in precedenza. Perché Arthur è un fior di calciatore, ma per quanto gli riguarda soltanto, ripeto, soltanto il suo maxi ingaggio e, diciamo, la cosa negativa di questo calciatore, perché Don è un calciatore da mettere in esubero, il suo maxi ingaggio e allora in linea, in coerenza con gli ingaggi ridotti, va bene, va benissimo che venga immesso sul mercato. Però anche di lui ho la speranza che non venga immesso sul mercato, che non venga svenduto, ma che rimanga in Rosa perché è bravo. E poi c'è McKennie, che per me rappresenta un fiore all'occhiello del centrocampo della Juventus. Ripeto, un fiore all'occhiello. si potrebbe dar via Miretti, che per la verità è fermo anche in box. Poi per il resto è forse Locatelli, che rispetto a McKennie ne mango un'unghia del piede. Quindi io ritengo che questi esuberi possono essere reintegrati, perché se reintegra questi giocatori, la Juventus, fa uno squadrone, fa un maxi squadrone, sempre in considerazione che deve immettere tre calciatori. E visto che la Next Gen sta chiaramente finanziando il mercato della Juventus, visto che stanno entrando soldi di sponsor, adesso dobbiamo vedere anche quale sarà lo sponsor che andrà sulla maglia, perché l'Enel non andrà sulla maglia, l'Enel andrà in altre situazioni, basta che leggere il comunicato ufficiale. E vedete l'Enel dove lo vedremo, che è una partnership della Juventus, ma lo sponsor Main è un altro sponsor sulla maglia, è uno sponsor che arriverà ora, probabilmente quando si rientrerà in questo video, la Juventus ha già annunciato il nuovo sponsor. Quindi è chiaro ed evidente che la situazione relativa ai giocatori in esubero, personalmente ho la speranza che non vengano ceduti, che rimangono. E questa è una squadra fortissima, formidabile, perché considerate che ci mette Douglas Lewis, ci mette lo stesso, come si chiama lì, Turan. E poi, se confermi Chiesa e confermi tutti i quadri, questo è uno squadrone, è uno squadrone sul quale il tecnico può lavorare seriamente. Ci mostrano una Juventus in piena rivoluzione. Certo, se dovessero arrivare i tre, ma arriveranno, di cui parla il direttore, sicuramente una mezza rivoluzione ci sarà stata, ma se ci fosse il reintegro di questi esuberi, francamente, con tutte le competizioni che la Juventus deve fare, certamente sarebbe ben coperta e potrebbe essere davvero una squadra che parte favorita in campionato, parte per arrivare nei primi otto posti in Champions League, parte favorita per vincere la Coppa Italia, parte favorita per vincere la Supercoppa Italiana e parte come bella figura nel Mondiale, se si dovesse fare negli Stati Uniti. Con il reintegro degli esuberi, attenzione, ma questo va detto anche perché la Next Genoa, abbiamo detto, ha finanziato il mercato. Magari i tre calciatori di cui parla il direttore Giuntoli, vengono finanziati con i 40,8 milioni recuperati da Sule e l'altro ragazzo. E quindi, poi oltre al grande flusso di denaro che entrerà nelle casse bianconere di qui a poco, io credo che reintegrare questi calciatori che sono bravi, attenzione, che sono bravi, magari fare qualche deciso da vendere Milik totalmente, da vendere Milik totalmente, Cesdi che ormai è stato sostituito e quindi vedremo se su Jalou, sul quale però c'è la Lazio, vuole dare 11 milioni, sarebbe una plusvarenza strepitosa questa, ma è una notizia che io so perché, come sapete, ho i rapporti con un dirigente molto alto nella Lazio e quindi non è che le notizie mi vengono. Jalou, se si vende a 11 milioni si riduce un po' la cifra, però la Juventus con un difensore centrale da acquistare, con un altro centrocampista da acquistare e un'altra punta da acquistare diventa di diritto la favorita numero uno e allora con questi sub reintegrati la missione quarta stella è possibile perché questi sono buoni calciatori, sono ottimi calciatori che in Serie A figurano molto molto e che hanno dal canto loro una grande personalità, hanno esperienza, hanno un hype internazionale e hanno soprattutto la voglia di mettersi in mostra, anche di fronte ad un allenatore che magari li potrebbe valorizzare ancora di più rispetto a quanto è stato fatto negli ultimi anni, quando invece sono stati messi in naftalina da chi c'era prima. Ritengo anche che la cessione di Ken è stata devastante per quanto me ne guarda, perché ritengo che poteva andare tantissimo la Juventus, ma ormai è andato e quindi vedremo cosa succederà. Mi fermo qui per il momento, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vestico, attivare la campanella delle notifiche, mettere un like se lo ritenete opportuno. La prossima!